A Barletta torna la storica disfida, rievocare la vittoria dei cavalieri italiani negli avvenimenti del 1503, due settimane di appuntamenti, fino al 20 di settembre. Il momento clou, il triunfale corteo storico in programma il 19 settembre prossimo. Ieri la presentazione degli eventi al Castello di Barletta, promosse dal comune di Barletta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, col patrocinio del Ministero dei beni e delle attività del turismo, assessorato alla industria turistica e culturale della regione Puglia, della provincia di Barletta, Andrea Trani e di Puglia a promozione. Alessandra Tursilli. Sindaco, che cosa rappresenta questo momento per Barletta nel quale appunto si va a rievocare la storica disfida? Rappresenta innanzitutto la riscoperta di un dato identitario, di un episodio che appartiene alla storia che per tanta parte ha anche contribuito a formare il carattere di questa città e ha assegnato la sua appartenenza al patrimonio nazionale. Basta ricordare il libro di D'Azelio che ancora adesso viene letto in tante scuole d'Italia che a suo tempo animò lo spirito del risorgimento mentale, lo spirito patriottico su cui si è formata l'unità d'Italia. Quindi è importante che Barletta si riconoscesse in questo evento e lo riproponesse all'attenzione dei tanti che in questa stagione hanno riscoperto questa città. Sono venuti per i concerti, sono venuti per le iniziative estive, sono venuti per la mostra di Denitis. È una disfida che cerca di mettere insieme gli elementi caratteristici di celebrazione della disfida, quelli che i barlettani amano, il corteo storico, triunfale, la sfilata in costume, gli sbandieratori, però con degli innesti di novità importanti sia nell'elaborazione del programma che nella dinamica di celebrazione del corteo triunfale. Prima di tutto non è un solo giorno, sono due settimane di eventi che sono iniziati ieri con i campus, questi laboratori formativi di scenografia, costume, arti performativi ed arti equestre che continueranno fino al 19 settembre, poi dall'11 iniziano una serie di eventi, di spettacolo e cultura, dal Barlett Art Festival al concerto di Mirko Signolire, a lezioni di storia con Cinzia Di Corato, Renato Russo, Brusa, Victor Rivera Magos. Ma la cosa importante è come cambiamo lo svolgimento del grande corteo triunfale. Il grande corteo triunfale uscirà dai giardini del castello e dal fronte del castello e si snoderà lungo il percorso del centro storico, percorso cambiato rispetto allo scorso anno, più filologico, si segue la barletta che realmente esisteva in quegli anni e innestato di due grandi elementi di novità. Uno che passano sotto il nome il racconto della disfida. Su tre tetti di palazzi storici della città, in via Manfredi, all'incrocio tra Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele e sul bastione Santa Maria del Castello, Paola Pitagora, Ettore Bassi e Sebastiano Lomonaco leggeranno brani riadattati del romanzo di D'Azzeglio da parte di Fabrizio Sinisi, un giovane drammaturgo barlettano e tutto ciò, tutto il corteo sarà contemporaneamente accompagnato da una videoinstallazione realizzata dall'artista barlettano Raffaele Fiorella sui silos dell'area portuale, una videoinstallazione artistica che racconta la battaglia intervallata da questi tre reading che inizieranno all'imbrunire e si proseguiranno per l'intera Notte Bianca che seguirà il finale canonico dello spettacolo piromusicale che avverrà qui al Castello.